Pensavo di essere preparato a tutto questo, lo sapevo che lui stava per morire. Sapere quello che ci aspetta non lo rende più facile. Che cosa farai adesso? Proverò a dimenticare. Ma anche se so già in partenza che sarà quasi impossibile riuscire a farlo. Non ero punta a perderlo come credevo. Le persone davvero importanti per noi, le persone che amiamo di più, ci sono sempre. Non ci lascerò mai. Davvero? Sì. 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 Sì.